Con una pallina bianca vado a fare una sfoglia sottile e a ritagliarla con un cutter rotondo. Con un dotter a punta sottile o uno stuzzicadenti vado a fare delle incisioni per decorare. Ho meschiato molto trasparente con un po' di rose e un po' di giallo. Vado a schiacciare un pochino una pallina. Dopodiché con la parte del cutter che taglia di meno vado a creare dei piccoli spicchi. Ora vado a mettere il budino al centro del piatto. Ora vado a cuocere. Vado a riempire una siringa con la pasta leggera della My Mary. Ora con la siringa vado a fare un po' di ciuffetti di panna intorno al budino. Ora prendo delle cane di fragola e vado a inserirle sopra i ciuffetti di panna appoggiati al budino. Ora vado a fare i ciuffetti di panna più piccoli in mezzo alle fragole. Prima di procedere passo un filo di vernice per lucidare il budino. Avrei potuto farlo anche prima di cominciare a inserire la panna. Ora come ultima decorazione vado a fare un ciuffetto di panna in mezzo. E vado a metterci tre fette di fragola. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. ? It's summertime I said get your butt outside It's summertime Get your butt outside Oh it's summertime Get your butt outside Oh it's summertime Get your butt outside Oh it's summertime Oh it's summertime minigasted Grazie a tutti.